Ciao a tutti! Avete mai sentito parlare di Diamond Painting? Nel kit troviamo una tela. In alto ci sono le misure. E questa è l'area interessata su cui andranno messi i diamantini. Ogni colore è messo in un sacchetto con il numero corrispondente. Qui accanto c'è la leggenda con i corrispettivi colori sulla tela. La zona in cui vanno applicati i diamantini è già con sparsa di colla e c'è questa pellicola per proteggerla. Quindi è meglio non toglierla tutta subito ma poco per volta man mano che si procede. Nel kit c'è anche un quadratino di cera e questa penna con la punta cava dove viene messa appunto la cera per far appiccicare i diamantini. Infine c'è questa vaschetta che aiuta a disporre i diamantini in modo ordinato per prenderli meglio. Ora non resta che darci da fare. Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Grazie per aver guardato il video! A presto! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima!